Negli ultimi vent'anni le entrate tributarie sono aumentate di 166 miliardi. Se nel 2000 l'erario e gli enti locali avevano incassato 350,5 miliardi, nel 2019 il gettito a prezzi correnti è salito a 516,5 miliardi. In termini percentuali, secondo quanto riferisce la CGA, la crescita in questo ventennio è stata del 47,4%, 3,5 punti in più rispetto all'aumento registrato sempre nello stesso arco temporale dal PIL nazionale, espresso in termini nominali. Se il conto lo hanno pagato i contribuenti italiani, i vantaggi invece sono andati soprattutto all'erario e in minima parte a regioni e enti locali. A giugno, messe caratterizzato da un certo allentamento delle misure di contenimento del Covid-19, in molti Stati membri la produzione nella zona euro è del 2,9% nell'UE. Rispetto a maggio 2020, sono state le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. A maggio 2020 la produzione nel settore delle costruzioni è aumentata del 29,4% nell'area euro e del 22,3% nell'UE. A giugno 2020 rispetto a giugno 2019 la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita del 5,9% nell'area euro e del 5,8% nell'UE. La spesa media destinata dagli italiani alle vacanze estive crolla a 588 euro per persona, con un calo del 25% rispetto allo scorso anno, per effetto di ferie più brevi, meno lontane e dedicate soprattutto al relax familiare. È quanto emerge dal bilancio tracciato dall'analisi col diretti XE, in occasione del grande controesodo di agosto segnato dal bollino rosso, con quasi 3 italiani su 4, il 73%, che hanno scelto di andare in vacanza nell'estate 2020, anche se non mancano quanti sono in partenza per fine agosto e settembre. Sono 34 milioni gli italiani che hanno deciso di non rinunciare alle vacanze per almeno qualche giorno nell'estate 2020, che fa comunque registrare un calo del 13% rispetto allo scorso anno, per effetto dell'emergenza Covid-19 che ha però anche tagliato i budget disponibili. Oltre 10 milioni di soggetti, sia imprese sia famiglie, sono coinvolti con alcuni rilevanti rischi nel fenomeno dell'accessione dei crediti deteriorati da parte delle banche a fondi specializzati. Si tratta di circa 360 miliardi di euro di prestiti non rimborsati da più di 2,2 milioni di clienti degli istituti di credito, a cui si aggiungono gli obbligati e i coobbligati, i garanti e i dipendenti delle imprese debitrici in crisi, per un totale dunque di oltre 10 milioni di soggetti, che potrebbero diventare molto di più a stretto giro con le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19. È quanto emerge da una ricerca del centro studi di un'impresa, secondo la quale le norme europee e italiane hanno indotto le banche del nostro paese a continue cessioni massive dei loro crediti deteriorati, senza mai considerare il loro impatto sull'economia reale, sulle imprese, sull'occupazione, sulle famiglie e sulla società in generale. Grazie a tutti.